Un vero e proprio comitato d'affari capace di condizionare l'attività della macchina amministrativa riuscendo ad orientare, aggerando la normativa antimafia, appalti multimilionari a favore delle holding imprenditoriali riconducibili a lendrine. Dieci le persone fermate, coinvolto anche un ex senatore. Ancora un primato negativo per la Calabria che da un'indagine di demoscopica risulta essere la regione che investe meno nella formazione dei dipendenti pubblici, forte il divario con le altre regioni del nord del paese. Si arricchisce ogni giorno con nuovi colpi di scena la vicenda per la presidenza della provincia di Cosenza. Dopo la denuncia di Mario Chiuto, Graziano Di Natale convoca una conferenza stampa. Il comune di Vivo dichiara guerra ai cittadini incivili che depositano i sacchetti della spazzatura in luoghi non consentiti in arrivo le prime contestazioni. Touring Club, in collaborazione con la regione, assegna le bandiere arancioni ai comuni con meno di 15.000 abitanti che rispettano l'ambiente e sanno accogliere i turisti. Consegnate le prime quattro. Buonasera dalla redazione di Tele Europa Network e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli. In apertura parliamo di cronaca con un comitato d'affari in grado di gestire la macchina amministrativa del comune di Reggio Calabria per indirizzare appalti pubblici verso holding imprenditoriali riconducibili alle cosche di Indrangheta. A portarlo alla luce sono stati i carabinieri del reparto di Reggio Calabria che stamani hanno eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla direzione distrettuale antimafia nei confronti di 10 persone. Fra gli indagati figurano tutti con letti bianchi. Il nostro servizio vediamo. Avrebbero condizionato la macchina amministrativa per favorire un comitato d'affari in odore di Indrangheta pilotando appalti milionari in cambio di posti di lavoro e consulenze per parenti e amici. Con queste accuse la DDA di Reggio Calabria guidata dal procuratore Federico Caffiero Derao ha posto in stato di fermo 10 persone ritenute responsabili a vario titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, truffa aggravata, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, induzione in debita, dare o promettere utilità, intestazione fittizia di beni, estorsione aggravata dal metodo mafioso. L'attività di indagine avviata nel 2013 dal reparto operativo dei carabinieri Reggini e mirata a verificare il buon andamento del settore lavori pubblici del comune di Reggio ha dimostrato l'esistenza di un'organizzazione composta da imprenditori, funzionari pubblici e dirigenti tra i quali il potentissimo Marcello Camera, per anni direttore del settore lavori pubblici di Palazzo San Giorgio, recentemente spostato insieme ad altri colleghi per la rotazione voluta dal sindaco Falcomatà che da poco ha fatto sapere attraverso una nota stampa che l'amministrazione ha proceduto alla sospensione immediata dal servizio con privazione della retribuzione per i dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta. Per la verità questo è un tema sul quale si è tornati più volte, quello dell'esigenza di intervenire anche sulla parte dei dipendenti pubblici quando hanno un ruolo direttivo. Pensare che la sola parte elettiva modificandola e cambiandola dia al Comune la possibilità di rinnovarsi totalmente credo che non corrisponda esattamente a quello che è lo Stato delle pubbliche amministrazioni laddove ad operare attivamente e a formare gli atti sono i dirigenti amministrativi che di volta in volta vengono guidati, è vero, o possono essere guidati quando hanno la forza in relazione ai direttivi ma certamente non sono loro a fare e formare gli atti. Quindi probabilmente in materia di scioglimento bisogna pensare a qualche rimedio che consenta di affrontare anche questi aspetti. Io parlo sempre del controllo quantomeno di legittimità degli atti, ho un controllo di merito limitato casomai a determinate iniziative ma è certo che spetta legislatore poi individuare quale può essere la strada migliore per affrontare questo tema. A proposito dell'indagine odierna denominata Region, l'amministrazione comunale di Reggio Calabria ha provveduto a sospendere dal lavoro il dirigente del settore cultura Marcello Cammera e il funzionario del settore servizi tecnici e alta professionalità per il servizio idrico integrato sottoposti a fermo questa mattina nell'ambito dell'inchiesta della DDA Regina. A seguito dei gravi fatti emersi nell'ambito dell'odierna indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria è scritto in una nota, l'amministrazione ha proceduto alla sospensione immediata dal servizio con privazione della retribuzione per i dipendenti comunali coinvolti nell'inchiesta. E continuiamo a parlare di pubblica amministrazione perché l'ultima indagine di Demoscopica ci restituisce un'istantanea davvero impietosa per la Calabria e il Sud in generale. La qualità dei servizi è bassa anche perché si investe poco in formazione, contrariamente a quanto avviene nelle regioni del Nord Italia. La Calabria ancora una volta è agli ultimi posti particolari nel servizio di Marisa Fallico. Sentiamo. Il settore pubblico calabrese si colloca ancora una volta agli ultimi posti in Europa, 193 su 206 regioni prese in esame per efficienza. Qualcuno si meraviglia? Ovviamente no. Abbiamo tutti i record negativi, purtroppo. Il dato emerge dall'ultima indagine di Demoscopica, uno dei più accreditati istituti di ricerca italiani con sede a Rende che, ingrociando i dati di qualità dei servizi erogati e spesa di formazione nei primi mesi del 2016, oltre 134 milioni di euro utilizzati da regioni, province e comuni per formare ben 544 mila dipendenti per migliorare l'efficienza della macchina burocratica, ci restituisce un'Italia a tre velocità, come evidenzia il presidente Raffaele Rio. Un mezzogiorno burocratico bocciato dai cittadini, un centro che presenta una credibilità nella media complessiva italiana e un nord che gongola rispetto al resto del paese. Tutto ciò perché nel mezzogiorno, che ha addirittura ridotto gli investimenti, si spende per la formazione dei dipendenti pubblici la metà rispetto al nord che viaggia su una media di 312 euro a dipendente. In Calabria addirittura vengono investiti soltanto 107 euro pro capite a fronte dei 246 euro del dato italiano. L'indagine vede nella top 10 sull'efficienza della pubblica amministrazione, che significa ovviamente erogazione di servizi di qualità e gradimento dei cittadini, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e l'Umbria, la Sardegna unica tra le regioni del sud, mentre le più scassate, riprendendo la definizione di demoscopica, risultano Campania, Molise, Calabria, Sicilia e Basilicata. Un buon governo locale ha bisogno di investire nella competenza dei suoi dipendenti. Il nostro studio, precisa Raffaele Rio, mette in stretta relazione il livello di soddisfazione degli utenti con la spesa impegnata dalle istituzioni per la formazione del proprio personale. Ma in Calabria non è solo la inefficienza, spesso la mancanza di competenze a rendere la macchina burocratica dell'amministrazione pubblica un pachiderma che frena, blocca e poco risolve. C'è anche il problema della inamovibilità dei vertici dirigenziali, a cominciare dalla regione. Una metastasi, come denunciato qualche giorno fa dal procuratore di Catanzaro Gratteri, che impaluda ogni possibilità di crescita, fagocitando ogni buona intenzione. Prima ancora della politica dell'andrangheta, per Gratteri il problema della Calabria sono i quadri della pubblica amministrazione. Cambiamo adesso argomento, parliamo di sanità calabrese. È un problema, dice Orlandino Greco, capogruppo di Oliverio, presidente. Il commissariamento non la risolve. Il Partito Democratico deve fare chiarezza sulle alleanze. Giunta e Consiglio devono assumersi le proprie responsabilità. Carenza di personale e strutture abbandonate continuano a nuocere ai calabresi. Vediamo i particolari nel servizio di Gianluca Pasqua. Mentre il medico cerca la cura, l'ammalato muore. Usa questa metafora Orlandino Greco, presidente del gruppo Oliverio Presidente in Consiglio regionale, per descrivere la situazione che vive la sanità calabrese, sempre le prese con una ristrutturazione che finora, sostiene l'esponente politico, non ha portato a effettivi miglioramenti. La sanità in Calabria è un problema, dice Greco, un enorme problema. E se è un problema di questa portata non si arresta, ma prosegue la sua inarrestabile corsa distruttiva, è perché, diciamocelo chiaramente, ci sono precise responsabilità che il Consiglio e anche la Giunta regionale in primis hanno l'obbligo morale di affrontare. C'è, sottolinea Orlandino Greco, la questione del riordino del sistema ospedaliero, che pesa come un macigno sulla funzionalità di un intero apparato e sulla tutela della salute. Personale non sufficiente, turni massacranti per gli operatori medici e infermieristici. E non dobbiamo dimenticarci, poi, dei cosiddetti ospedali di periferia, incautamente declassati e privi, in alcuni casi, fino anche di post-azione di primo soccorso e di emergenza-urgenza. Greco cita come esempi l'ospedale di Praia Mare, di Trebisacce, di San Giovanni in Fiore, di Cetraro, di tanti altri non so come nella provincia di Cosenza, ma anche in tutta la regione, che dovrebbero rappresentare dei presidi e dei punti di riferimento per la tutela della salute pubblica, mentre oggi attraversano un tunnel senza uscita e senza futuro, manchevole di una propria autonomia di gestione e di indirizzo sanitario. E la non funzionalità, denuncia il Consigliere regionale, delle nostre strutture ospedaliere, va a compromettere maggiormente il quadro economico della spesa sanitaria, aggravandolo. Poi, l'affondo politico, le ragioni di un'alleanza come quella che ha portato alla vittoria della regione 2014, dice Greco, si intravedono sui temi concreti come la sanità. I tanti, troppi commissariamenti da parte dei governi centralisti, al discapito del sud, della nostra regione, ed ora l'anomalia di un commissario della sanità e di un vice, indicati e scelti da due partiti, il PD di Matteo Renzi e l'NCD di Angelino Alfano, commissariamenti che non hanno prodotto nulla, se non addirittura, hanno peggiorato e recato ancora più danno al sistema sanitario calabrese. Ed è quindi il Partito Democratico a dover risolvere innanzitutto questo paradosso e questa discrasia, anche per gli acquisire la giusta credibilità e anche per svestirsi dai panni di accusatore e accusato. Insomma, c'è tanto su cui riflettere, conclude Greco, e molto su cui agire e per chi, come noi, è stato eletto con un mandato popolare, insieme al Consiglio regionale, immaturo il tempo per una seria assunzione di responsabilità che ci tocca e che non può più tardare ad arrivare. Cambiamo ancora argomento. Tensione alta alla provincia di Cosenza. Il consigliere anziano Graziano Di Natale ha presentato questa mattina un esposto alla Procura della Repubblica Abruzzia sulla vicenda inerente alla presidenza dell'Ende. Lo ha reso noto nel corso di un incontro con i giornalisti. Per noi ha seguito la vicenda Rosalvo Abbaldino. Sentiamo. Scintille alla provincia di Cosenza, dove questa mattina per il consigliere anziano Graziano Di Natale è stato, diciamo così, complicato ottenere la sala per la conferenza stampa. Il consigliere provinciale è stato, diciamo così, è andato alla chiara che deve venire il posto. Risolti i problemi burocratici, nel Salone degli Stemmi Di Natale ha reso noto di aver presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Cosenza. Si complica la vicenda sulla presidenza dell'Ende. Di Natale ha consegnato alla stampa i documenti nell'ordine della sentenza del Tar del 17 maggio 2016, l'appello della provincia e l'appello incidentale di Mario Chiuto al Consiglio di Stato. Consiglio di Stato che si è pronunciato con una sentenza. Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza del 7 luglio, ha disatteso l'appello principale della provincia di Cosenza, l'appello incidentale di Mario Chiuto e ha confermato la sentenza del Tar Calabria, che ha dichiarato decaduto dalla carica di presidente della provincia di Cosenza, Mario Chiuto, conseguentemente ha dichiarato nulli tutti gli atti da essi proposti. Diversa la posizione di Mario Chiuto. La sentenza del Tar che è stata confermata dal Consiglio di Stato riguarda la nomina del vicepresidente, la permanenza in carica di un consigliere provinciale. Sentenza fra l'altro che dovrà essere discussa nel merito ancora dal Consiglio di Stato, quindi aspettiamo anche il merito della decisione. Non riguarda però la figura del Presidente, che per oggi rimane in carica. Nell'ente la tensione resta alta. Parliamo adesso di emergenza rifiuti, perché il Comune di Vivo Valencia dichiara guerra ai cittadini incivili che depositano i sacchetti della spazzatura ai luoghi non consentiti. In arrivo ci sono le prime contestazioni. Vediamo. A questo punto bisogna passare ai fatti, alle azioni, perché l'emergenza rifiuti a Vivo Valencia è in realtà un'emergenza civica, nel senso che è il frutto avvelenato di una cittadinanza che non ha rispetto della propria città, che ha perso il senso civico ed agisce con il disprezzo delle regole. Siamo in pieno centro cittadino, di fronte alla biblioteca comunale ed è da poco scoccato mezzogiorno. Le nostre telecamere riprendono persone che si avvicinano ai cassonetti dell'immondizia e vi versano i loro sacchetti incuranti del fatto che vi è un preciso divieto, mentre sono precisati chiaramente le ore in cui questo deposito deve avvenire. Di più, la sequenza fotografica che proponiamo registra la situazione che nello stesso luogo, oggi come ogni giorno, accade dopo le 8 del mattino, cioè dopo che sono passati i mezzi che hanno svuotato i cassonetti accumulatisi durante le ore notturne. Un'inciviltà che si trasforma in disprezzo per la propria città, una sfrontatezza, una maleducazione che non può essere ulteriormente tollerata. Ed allora benvenga il giro di vite finalmente attuato dalla Polizia Municipale. In meno di 24 ore il risultato è eclatante e deve far riflettere. Già 20 sanzioni a carico di cittadini responsabili di aver gettato i rifiuti al di fuori dell'orario consentito o addirittura al di fuori degli stessi cassonetti. Si dà così atto, spiegano i municipi e le direttive impartite dal sindaco Elio Costa in materia di decoro urbano, ma ciò che serve e deve essere imposto è un rispetto per il bene comune, che è amore per la propria città. Da qui l'invito ai cittadini ad adeguare i comportamenti e quelle che sono le regole del vivere civile. E c'è una notizia adesso che riguarda i rifiuti perché è stato revocato lo sciopero del settore igiene urbana previsto per il 13 e 14 luglio, inizialmente per l'11 e il 12 poi spostato. È stato infatti siglato nella giornata di ieri l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro nazionale dei lavoratori delle aziende pubbliche dell'igiene ambientale aderenti a Utilitalia. Adesso una notizia di cronaca che arriva da Catanzaro dove un 27enne originario del Marocco è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali volontarie aggravate, resistenza aggravata a pubblici ufficiali degli agenti delle volanti della questura di Catanzaro. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento del centro della città dal quale si sentivano provenire le grida di una donna. Giunti sul posto gli agenti hanno bloccato l'uomo che con fare minaccioso continuava ad avere un atteggiamento violento nonostante fosse già presente un agente che pur se libero dal servizio era intervenuto. Secondo la ricostruzione della polizia l'uomo aveva iniziato a discutere con la compagna per poi malmenarla e offenderla per futili motivi. Per non far sentire le urla della donna l'uomo ha alzato il volume dello stereo ma le grida sono state comunque udite dai vicini che hanno chiamato il 113. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. I finanziari del nucleo di polizia tributaria di Crotone su disposizione della Procura della Repubblica hanno notificato gli avvisti di conclusione delle indagini preliminari a 15 amministratori della sua Acro S.p.A., società per la gestione del servizio idrico nella provincia di Crotone. I reati contestati sono quelli di false comunicazioni sociali, abuso d'ufficio e, a seguito della declaratoria di fallimento, bancarotta fraudolenta. L'operazione denominata Acqua Chiara è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone. Rilevate una serie di affidamenti illegittimi nel periodo 2011-2015, sarebbero stati stipulati diversi contratti di cottimo fiduciario e lavori di somma urgenza che non potevano essere considerati singolarmente e che superando il limite di 40.000 euro andavano concessi attraverso le normali procedure e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Stavano pescando trote di frodo in un torrente, utilizzando un generatore di corrente elettrica. Tre persone sono state denunciate a petire a policastro dagli uomini del comando provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Crotone. I tre, tutti originali di Mesoraca, sono stati sorpresi durante un servizio di controllo sulla sponda di un corso d'acqua. Alla vista dei forestali, hanno tentato di sbarazzarsi di un cesto contenente le trote pescate, dell'attrezzatura utilizzata per tramortirle. Il pescato è stato distrutto mentre l'attrezzatura è stata posta sotto sequestro. Si terrà venerdì 15 luglio alle 18 in contrada tavoleria a Stilo in provincia di Reggio Calabria la seconda piccola festa della ripartenza organizzata dalla cooperativa Goel dopo le recenti intimidazioni subite dalle aziende agricole e socie di Goel Bio. L'appuntamento è proprio nell'Uliveto dove la scorsa settimana l'Andrangheta ha tagliato 13 alberi di appena a 20 anni, perché è proprio lì dove l'Andrangheta batte gli alberi che Goeli ripianta. E ne ripianta 26, il doppio di quelli abbattuti. E ancora una notizia di cronaca, questa volta arriva da Vibbo Valencia. Perseguitavano un pensionato con violenze fisiche, lesioni personali ed aggressioni verbali. Per tale motivo i carabinieri della stazione di Pizzo Calabro hanno eseguito una misura cautelare messa dalla magistratura di Vibbo Valencia, di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti di un uomo di 61 anni e del figlio di 41 anni. Le bandiere blu per il mare in salute, le bandiere arancioni invece per i paesi dell'entroterra che rispettano l'ambiente e attraggono i turisti. Le attribuisce il Touring Club che con la regione aiuta i comuni con meno di 15.000 abitanti a migliorare la propria ricettività turistica. Gianluca Pasqua, sentiamo. In Calabria ne sventolano già 4 di bandiere arancioni. A Civita e Morano in provincia di Cosenza, a Bova e Gerace in provincia di Reggio Calabria. E se le bandiere blu premiano la balneabilità del mare, quelle arancioni sono riservate alle località dell'entroterra che in quanto a qualità del territorio e dei servizi turistici presentano potenziali importanti da valorizzare attraverso piani di miglioramento. Ad attribuire ai vestilli di qualità il Touring Club che ha stretto una partnership con la regione Calabria. Parte una proposta ai piccoli comuni dell'entroterra. Come associazione, come Touring Club Italiano pensiamo che nell'ambito dell'entroterra ci sia una grande potenzialità ancora inespressa. L'obiettivo del nostro lavoro insieme alla regione è quello di proporre e seminare percorsi di miglioramento. Quindi c'è un po' la scusa di ricevere un marchio ma il vero obiettivo è attivare percorsi di miglioramento per i sistemi di ospitalità, per i sistemi turistici e quindi anche per le persone che vivono in questi borghi. Possono ambire l'attribuzione della bandiera arancione tutti i comuni al di sotto dei 15.000 abitanti che risulteranno in linea con gli standard qualitativi turistici e ambientali fissati dal Touring Club. Abbiamo un modello d'analisi molto ampio fatto di circa 250 parametri. Si va dalla segnaletica ai siti internet, alla disponibilità di informazioni sul campo, alla qualità e la varietà del sistema ricettivo, del sistema di ospitalità e la nostra squadra fa delle visite specifiche in tutti i comuni che vengono preselezionati e si vanno ad assaggiare veramente come funzionano questi paesi e poi tutti i comuni riceveranno un piano, un modello di lavoro, un piano di miglioramento che è il focus proprio del nostro lavoro. Parliamo adesso di scuola perché mentre sono ancora in corso in alcune scuole orali dell'esame di maturità è già pronto il calendario per il prossimo anno scolastico 2016-2017 messo a punto dalle singole regioni. I primi a tornare sui banchi il 5 settembre saranno gli studenti di Bolzano. Dopo di loro il 12 riprenderanno le elezioni in Abruzzo, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Molise, Piemonte, Trentino, Umbria, Val d'Aosta e Veneto. Il 14 invece è la volta di Basilicata, Calabria, Liguria, Sardegna e Sicilia. Agli ultimi a rientrare il 15 settembre saranno gli studenti di Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Puglia e Toscana. Adesso parliamo di musica e spettacolo perché dopo una pausa torna a Montalto il festival dedicato al compositore Ruggero Leoncavallo. Con molte novità però si comincia fra due giorni. Sentiamo. Dopo la classica pausa sabbatica ritorna il festival lirico dedicato a Ruggero Leoncavallo, Cittadino Insigne di Montalto Fugo. Il progetto è totalmente nuovo, la musica sarà protagonista ad ogni livello, sarà l'arte ad entrare in scena e si pensa anche di poter produrre tra due anni la grandiosa opera lirica Pagliacci. Il concorso lirico vero e proprio si farà probabilmente dopo i mesi estivi. Intanto giovedì 14 luglio ci sarà il premio Oscar Nicola Piovani. Il festival Leoncavallo è una formula nuova sicuramente quest'anno che si apre a molti generi musicali, che si apre alle realtà calabresi e che cerca di valorizzare delle iniziative già presenti sul territorio di Montalto. Tant'è che iniziamo con Nicola Piovani e subito dopo c'è la rassegna cinematografica che già si svolgeva da due anni qui a Montalto e che si svolgerà anche quest'anno per tre giorni. Stiamo lavorando per dar vita a un progetto che avrà il suo importante epilogo nel 2018 con la produzione dell'opera I Pagliacci. Il percorso di questo festival si snoderà tra poesia, arte, cinema, jazz, tango e teatro, ma il festival vuole cambiare fino ad arrivare a durare un anno intero. La critica che facevo al festival era proprio questa, era quella che sembrava si riducesse quasi esclusivamente a due serate e poi per un anno non se ne parlava più. Noi invece vogliamo cercare di dare una certa continuità a questa iniziativa e quindi praticamente questo comporta anche la possibilità di stralciare alcune parti del festival e di spalmarle un po' su tutto l'anno. Il gran finale di questa edizione del festival Leoncavallo sarà naturalmente dedicato alla musica lirica. Il 27 agosto è in programma lo spettacolo Leoncavallo ed intorni e domenica 28 agosto la serata di gala, come da tradizione, sul sagrato del Duomo della Madonna della Serra. Ed ora parliamo di sport. Vi mostriamo in anteprima le immagini del raduno del Cosenza Calcio, la squadra calabrese che milita nel campionato di Lega Pro. Nel tardo pomeriggio di oggi la squadra si è ritrovata in città in un noto albergo di rende per avviare una fase propedeutica della durata di quattro giorni durante la quale il gruppo sosterrà visite mediche, test atletici in acqua, palestra e campo. Poi da lunedì prossimo i ragazzi rosso-blu partiranno per il ritiro precampionato che per il secondo anno consecutivo si svolgerà fra le montagne della propria provincia a Lorica. La società ha dunque deciso di ripetere la positiva esperienza rinnovando l'intesa con il park 108, struttura di proprietà della famiglia Tarsitano, situata sulla riva del lago Arvo nel territorio di San Giovanni in Fiore. Dal giorno 18 il gruppo rosso-blu si ritroverà, lo ricordiamo, a Lorica dove la preparazione atletica entrerà nel vivo e proseguiranno fino al 31 luglio, previste anche una serie di amichevoli con la C-Morrone, squadra che milita nel campionato di seconda categoria, con la Stilese, formazione che milita nel campionato di promozione e la terza con un avversario ancora da definire. Bene, questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito, un ringraziamento a Enzo Leonetti in regia, a Giuseppe Costanzo in messi in onda e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.